Tu, cosa da dire il flosido? Spero che non si lascia cominciare da te un borgheri qualsiasi sia il suo piano eh già però non mai scherzare con pesa eh guarda perché veramente ti trappa la bocca con un sesso grosso è grosso per calcio è un tiro quindi aia raga, però io voglio dire una cosa pure i match femminili guarda non ve menate, non fate a botta non lo fate a casa, pensate su un tipo una figa, guarda qua quanta c'è vabbè, a blade no, cioè vabbè, diciamo che oggi forse meno di altre volte, cioè monella, vabbè mi spettano da essere meglio attenzione, il cavolo monella monella sei una monella incompetente la mossa della madre incaulata attenzione, la blade da le spalle poi, attenzione c'erano fuori ragazzi il match va oh non voglio dover usare quella roba, però attenzione, è mega schiva veramente attenzione oh, MEDLOCK MEDDRIVER MEDDRIVER 1 2 3 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 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 18 16 16 18 17 17 18 18 ma qualcuno è arrivato e il tuo pranzo sembra preoccupato, vai! Ed eccolo qui il motociclista per eccellenza, Paul Jason! Scatti non lo sa! Eh no! E poi è bello, ha fatto del furgone mentre c'era la valle, no? Sì, è facile! Eccolo qui, Paul Jason! Con lei che si bombiona e Scatti non lo sa! Il pronostico io dico... Beh, oddio, Paul Jason però è Paul Jason! Tu che dici? Paul Jason con l'attitudine mortale! Ma ancora sto pensando al furgone di prima! Ma che c'era un furgone? Alla moto! Ma gli occhiali! Eh sì! Guarda il sole che c'è oggi, qua, all'arena! Questo è un uomo che non vuole scherzare, lo ha detto! Non c'è nessuno che non può potere! Eccolo, prima chiuderò la doccia! E' pronto a potere! Si fa la dolce, può valutare! Guarda bene! Adesso, abbiamo visto che l'atleta veramente promette! Si, ma lui, il tervetrazione ha già vinto altri titoli però... Quindi da un termine adesso... Nenta! Mi fa! Stamattina Sezzanette ha pensato, stasera devo rompere il culo! E beh, poi il titolo della proletta, insomma, è un titolo che può già dare con una spinta, ma non ricorda qual è che ho più la spinta a me, proprio. Perché non si che c'è già in mezzo in questi fatti di artificio. Eh sì. Eccolo qui, Kurt. Ripo Jason, però, eh. Con il titolo. Ha detto bene. Eh sì. Chi è? Chi è questi rumori? Eh, la sto parlando. No, non so. Se ne è notizia, non si è riusciti i poliziotti a rubare la moto a Paul Jason. Si può iniziare, stick e g-match, come due anni fa nel match per il tiro femminile. Stavolta, Paul Jason, punto calma e corte. Per il titolo della proletta. Fomenta. Fumino con Jason, però. Meno abitità Pugilissi che ne batte sua, però. Per inizio. Oh, attenzione, subito, bravo. Più veloce con il Gerson, subito. Eh sì. Sarò a caricare con un supex. Oh, bello, Nero. Ottima manovra. Da parte del biker. Eh, sicuri. Caccia in fraccia. Mischiamento. Sì, sì, l'armi, sì. È il primo, la cosa, lo dico. Come si chiama, Cassi Lopez. No. Si lo dobbia, l'ha detto. Un braccio deso, però, si riprende molto bene qua. Io lo chiamo il corto. Da me è corto. Da me è corto. Dove è ovvio. Fa foto. Con la squadra, attenzione. Anche Paul Jason. Due si riguardano. Eh sì, per non più tempo a studiarsi che... Oh, attenzione. Una testata in terra. Zizu è batta. Ancora. Che testata. Chi me ne ricorda. Eh sì. Ma te la zi è caduto. Che ha preso la testata. E' stata ieri da casa. Sì, sì, sì. Eh, vabbè, dai. E' stato in su di qua. Però no, Andrea, non si può schienare, eh. Vi dà la notizia. Ok, allora... Fuca dalla gabbia. Qui è a... Chi ha più culo? Eh già. Già sono rialza, ancora. Poi, ancora Joe Breaker. Eh sì, comunque, te ne va giù. Eh già. Oh, attenzione, prova subito. Subito la scalata. Adesso è successo. Ma ci mette un po' troppo. Gianni, attenzione, guarda, vuoi direi, ma dove vai? Oh, mi vieni giù. Mi ha fatto rollare la cosa in piano. Sai che gli sgarassoni. Ahia. Già sono qua. Oh, attenzione. Stai sulla terza corda, lo aspetta. Oh, ah, la metta a voto. Qua ha preso un po' troppo, Andrea. Eh sì, verci, anche te... Stai ancora con questa esame. Stai dalla in faccia. Cosa? In questa cosa che ho detto che c'ha... Oh, spia, dalla terza corda. Vuoi dimostrare troppo, Gerson. Per sbaglio, no? Non vedo a motocarico a chi c'è quello quanto è. Ebbè. Ha parlato. Ha parlato. Oh, andiamo in sello. Vediamo se si riprende. Per fortuna non c'è la ragazza. La differenza è il fratello. Non abbiamo l'azione. Airshipa. Oh, Jason. Oh! Che gli ha fatto? Mamma mia, spintone. Che bot, ragazzi. Attenzione. Oh, attenzione. Gant French supex. Mamma mia, ragazzi. Qua può uscire dalla gabbia. Non esce. Un po' attenzione. La carica, la carica. Oh, spallata. Prevenisce massacrarlo un po'. Attenzione, qua è il ruolo. È vado a vuoto. Sbagliati con Jason. Attenzione. Caricotto. Oh! Che incredibile. Non sappia, nante. Si carica, si carica. Guardatelo. Fermatelo. Fermatelo. Ha una sincope con Jason. Attenzione. Ah, riuscivi un po'. Caff kick, no! Adessioni! Caff kick, n'entra fare, n'entra fare. Se la ne corti, no, da pareto. Sta pensando, no? Che devo fare? Che devo fare? No, attenzione qui, non lascio. Bravo qui, pro Jason. Adessioni, attenzione. Poi, caff kick, una volta. Due volte. Attenzione. Poi, la vuoto, flottovera. NECKBREAKER! Addio. Ed ora sì, ed ora sì che può provarci. Attenzione ragazzi, vuole la Spear. Vuole la Spear. La chiama, la chiama. La chiama. La chiama. Ma con la Spear! Oh! La pessa, può uscire dalla gabbia. Può uscire, i fan sono tutti con lui. La Jeff Spear, tecnicamente. Sì, la Jeff Spear. Attenzione, è l'entissimo però. È l'entissimo. Oh, attenzione. Oh! Si è corto. Può saltare! Oh! Lo prende. Ce l'ha ucciso qua. Eh sì. Oh, attenzione. L'aspettaciato. È riuscito. Ora, i fan si fanno sentire. Molti anche con galle cotta. Forse si sono un po' stufare anche di guadagnare. Sì. Oh, slek ice. Gli occhi dei serpenti. Ma poi, se non ci sono molto tempo i campioni. Anni? No, non è qui ci saranno. Ma pure qui non ci sono. Sì, le guadagnare a un fianco. Guardi che... Qui, prende tempo. Oh! Con Gerson non c'è. Ragazzi, con Gerson non so voi. Ma non c'è. È andato. Eh no. Potrebbe uscire della gabbia, ma credo che... Quali un po' lavorarselo. No, l'altro ne è lento, no? Lo gira. Attenzione. È un massacro. È un massacro. È un stress diploma, ragazzi. Eh sì, diploma della strada. BOOM! È qua di uscire. Se non esce ora, comando esce. E se ne va qui, can't let's court. Dopo che hai ritirato la footcata. Eh ma ora... Puggeasona è già lì. Puggeasona è già lì. Lo prende. Oh! RIS. Double RIS. Sì, double RIS. Super, ecce. C'è il suplex ha toccato con i bolsi. Ah eh. Con i bolsi. Può riuscire. Aspetta. Attenzione. Oh! Prende. Oh! Attenzione! Oh! Attenzione! Oh! 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 Cosa segno con la zoccolata! Mi plus da parte di un po' c'è. Eh sì! Ora la fa la spianata. Attenzione! È fuori! È fuori! È fuori! C'è praticamente arrivato! Attenzione! Care è il corte lì! Care è il corte lì! No! 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 Non ci credo! No! No! Non ci credo! Addio! German suplex da le stelle! Incredibile! Care è il corte qui! Dimostra davvero di avere una pendenza. Non si asserà così. Incredibile! Ancora in piedi! Attenzione! La vista che ha fatto! Ha visto! Che fa? Tiger bombo! Oh! È un match da wrestling indipendente. Da... Federazione indipendente. Sì, è vero. Che è qui! Carlet Kurt evidentemente se la prende comoda. Con tutti gli esseri spiegliore. Poi che fa? Eh... Se no! Io ho già che il che vi trovo... Eh... Carlet Kurt si imprega quasi niente del tiro. Gli imprega solo i massacrari. Cioè! Oh! Spenni kick! Poi c'è solo risulta. Guardatelo lì! Mamma mia, ragazzi! Alla cara di kid! Oh! Lo prende! Una volta ha preso! One leg drop kick! Lo alza! Aspetta! Va a correre! Va a correre! Ottima gubidata! È qui a scherzare un po' con il fuoco. Poi... Ero troppo! E chi si brucia! Eh già! Fa qui quel genere! Oh! Attenzione! Oh! Un leg out! Un leg out! Attenzione! Può andarsene! Andre andrà se ne va! Eh sì! Verci! È lento però! È lento! Se non te se ne va Verci! No! Secondo me ci riuscirà! Bella! Oh! E lo ributta a terra! Troppe cadute! E qui unisce massacrare Canet! Che ho! Oh! È l'altro! rukto cxx! Ho!